A me piace fare le compilation. Lavoro in un negozio di rischi. E che fa il consulente musicale? Facciamo conoscere ancora più musica e guadagniamo ancora più soldi. E chi cazzo è che si compra 5 miliardi di lire in cassette Verge? Rischi zero e diventiamo ricchi, noi e voi. Il giro d'affare è diventato importante. Quanti fratelli siete? Non siamo due, siamo tre. Chi di voi tre, Mick Zed by Harry? Tecnicamente tutti e tre, soprattutto se parliamo in termini sociali. Voglio, Harry, chi cazzo è? È lui, io no. Viene un modo strano di fare il DJ. Mi piace. Siete la prima etichetta discografica in Italia. Questi ci vogliono fare la guerra. E noi ci prepariamo a vincerle, ammo la guerra. Io volevo solo fare il DJ. Don't stop, don't stop, keep getting up, don't stop, don't stop, keep getting up, don't stop. Io volevo solo fare il DJ. Ciao! Grazie a tutti